E ora che sto in tv, io non schiodo da qui, non saprai mai convincermi, non potrai mai costringermi. Resta sul reitre, io c'ho un contratto su questo canale, e l'ufficio legale garantisce per me, io non schiodo, non schiodo, e tu, e tu dovrai sintonizzarti. E questa eterna lotta per lo sce, no, 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 io non mi risveglierò domani, scoprendo che tu non sei con me. Resta sul reitre, sarci il reitre, non lasciarmi da sola, io non ci resto da sola, tu provai e ci vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Resta sul reitre, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Io non schiodo, non saprai mai convincermi, non potrai mai, mai costringermi, no, 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 dai. Guarda un contratto che è quadrimestrale, e dico quadrimestrale, chiedi all'ufficio legale. E il contratto che ho qui, io non schiodo, non schiodo, e tu, e tu dovrai sintonizzarti. Uuuh oh 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 Non vado neanche a spararmi Paola Cortellesi Paola Cortellesi